Marshmallow, bye bye, un minuto e 45 di canzone, io lo dico sempre Ne bastavano 45, basta Sei cattivo, è comoda come canzone, quando sei in ritardo, quando c'è l'ospite da voler far parlare Certo che è comoda Queste sono strategie, strategie dello speaker Allora buongiorno ancora Tamara Malleo Buongiorno, buongiorno agli ascoltatori e agli ascoltatrici Intanto ci scrivono subito, buongiorno, chiedete a Tamara cosa consiglia di andare a vedere a Capodanno E qua per questo Ripeto il numero, 331-7853-555 Se volete fare come Marilena potete chiedere consigli a Tamara Allora, stavamo fuori onda dicendo che molto spesso a teatro ci sono i comici Aria Zelig propone un Capodanno con comici molto interessanti peraltro Perché ci sono anche Loris, Fabiani e Alice Eredini che noi seguiamo con grande attenzione Ma io chiaramente invece vi propongo tre alternative di Capodanno Tre proposte alternative per Capodanno Allora Uno spettacolo monografico su Kafka No, 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 ma sarei molto d'accordo con me Perché uno di questi tre spettacoli è di un attore, un artista in realtà abbastanza completo Che è Gipo Currado che torna con Family Perché ritorna con, appunto, dopo Supermarket Family Che è The Modern Musical Comedy Io l'ho visto, è bellissimo È bellissimo, è molto bello perché non è solamente un musical Pelle d'oca, pelle d'oca, pelle d'oca Mentre mi sta dicendo di Family, pelle d'oca Perché non è solo un musical, non è soltanto una commedia Ci sono dei bravissimi attori e attrici in scena Tra cui Elena Scali, Tilaria Longo, Giovanni Longin, Roberto Marinelli Insomma, ce ne sono tanti Gipo Currado guida tutto il gruppo Ha scritto le musiche originali perché lui è anche un musicista Si occupa anche di podcast Quindi ha una cura del suono molto, molto precisa e attenta Ed è la storia di una famiglia Come racconta lui, tutte le famiglie possono essere felici Ma in realtà molte famiglie nascondono la propria infelicità E la raccontano negli anni Perché poi le cene di Natale sono un momento in cui ci si incontra in famiglia E ci si, in qualche modo, riconosce o non riconosce in quello che è il gruppo familiare E quindi devo dire che lui riesce molto bene, con grande ironia A mettere in luce le debolezze anche nei rapporti familiari Quindi devo dire che, però è molto divertente Devo dire che c'è Chiedo questo, se avete visto Supermarket, non fate il confronto Perché non sono la stessa cosa No, 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 proprio sono due cose diverse Ma è bello tanto quanto Cioè nel senso che non sono la stessa cosa Si vede però che la firma è quella Sì È un'altra roba, non aspettatevi certe cose Vi sorprenderanno altre che invece non vi aspettate Quindi davvero, davvero No, è uno spettacolo stupendo Come tutto quello che fa Gipo Sì, devo dire che è veramente una persona che cerca sempre di portare delle novità Perché anche in questo caso, appunto, non è un musical Non è una commedia in sé Quindi non è teatro di prosa Non è musical Non può essere ingabbiato in una definizione Però ci piace proprio per questo E poi comunque porta in scena, credo, otto o nove attori Che è una compagnia importante adesso per, diciamo, le proposte teatrali di questo periodo Quindi devo dirti che è un lavoro che lui fa con grande cura Con grande attenzione E anche per creare una compagnia Perché poi le compagnie... Ah, c'è anche Paola Tintinelli Che è un'attrice meravigliosa Quindi, insomma, veramente gli artisti e le artiste che lui sceglie Portano grande qualità E siamo al teatro Fontana In via Voltraffio Quindi siamo in zona isola Sì E quindi era facilmente raggiungibile È una serata di Capodanno passata con quella compagnia Devo dire che vale Interessante Consiglio per Lorenzo Masieri Teatro Fontana di fianco alla Pizzeria Fontana Che fa un'ottima pizza al trancio Una delle migliori di Milano È una delle migliori di Milano Cioè che non ha niente da invidiare Se non ancora meglio di quella la famosa Devo dire che c'è anche un bar all'angolo No, perché l'ho provato proprio l'altro giorno È che mangio e bevo e basta, ragazzi Con dei panini non indifferenti Anche nella quantità, devo dire Lo stesso bar a volte fa karaoke Se vuoi anche Quindi puoi aggiungersi quella parte lì Se vuoi Però poi vai a teatro Questa come ci arrivo Questa come ci arrivo Dopo, dopo Infatti magari facciamo un diverso No, ma io ho bevuto un drink anche prima Si va tranquilli Ma si addormenta questo bravo Giù Il cromanitilico Lo ritrovo a Santo Stefano nel prossimo anno San Giuliano San Giuliano con Paul Con Paul ci troviamo Mentre stiamo cercando di tornare verso Milano Allora, la seconda proposta È invece una proposta un po' più classica Che è il canto di Natale Con la compagnia Mario Mario Dele marionette Di Carlo Colla e figli Che ha una grande tradizione Nell'ambito delle marionette E il canto di Natale È un grande classico Di Charles Dickens Che insomma Tutti noi Chi dirà Maseri? Christmas Carol Ecco Non sa che cos'è Ma non è Può sempre recuperare Se va a teatro Non è visto neanche SOS Fantasmi Cioè è quello che mi sconvolge Che è la cosa L'ABC del Christmas Carol Di noi bambini Ripetiamolo perché I radioscoltatori sicuramente lo sanno Perché ogni giorno Tiri fuori questa cosa Magari Taman Non lo so Guardo cose Che mi possono succedere Cioè se un film Per esempio Tratta di fantasia Io non riesco A medesimarmi Ma ci sta Ma no È un paletto È un paletto È un paletto È un paletto Ma perché no? Quindi cartoni animati Non ho mai Non ho mai visto Il Re Leone Non ho mai visto Il Re Leone Vabbè Io non ho mai visto Adesso non mi viene in mente In titolo Tu non esiste cose che non hai visto Secondo me Però avrei visto I Goonies Che è un grande classico Degli anni No Però io sono anziana No È quello Non ho visto Solo Star Wars Solo Star Wars Vabbè È già qualcosa E devo dire Grazie al Covid Tra l'altro Perché sennò Vabbè Ma hai ancora giovane Fu recuperare Irricuperabile Andiamo avanti Con le proposte Allora Appunto Il Canto di Natale Lo trovate Al Teatro Studio Melato Quindi In pieno centro A Milano In zona Metropolitana Verde Aiutate Dopo Lanza C'è No Lanza No no È Lanza Perché pensavo a Moscova Invece è Lanza Che è la più vicina Quindi è facilmente raggiungibile Vicino al piccolo Esatto È proprio di fronte al piccolo E devo dirvi che Le marionette di Carlo Colla Ci portano sempre In un mondo molto fiabesco Quindi non è solo per bambini Ma è consigliato Anche per bambini e bambine Ma Diciamo così È uno spettacolo Per la famiglia Diciamo così Io ci vado anche da sola In realtà Perché mi piace molto Perché mi porta In un mondo fantastico E anche questo In scena A Capodanno A Capodanno Perfetto Diciamo che I teatri sono chiusi Il 25 E il primo Ok Tutti gli altri giorni Anche il 26 Per esempio Ci sono molti spettacoli In giro Per i teatri Anche il 24 Che la vigilia si può fare Che bello Anche il 24 Sì sì Che alcuni lo faranno Sì 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 Magari hanno un orario anticipato Quindi magari alle 18.30 Da 19.30 Così poi dopo Prendere a casa Fare che cosa Niente No Cosa fai il 24 Sera tu a casa Ah bacio il bambinello Ecco Bravo Voglio la foto quest'anno Voglio la foto È una cosa simbolica No 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 Voglio che ti faccia La foto Guardami in faccia Aspetta Ti mando anche in onda Anche per questo Ti mando anche in onda Voglio Che tu quest'anno Mi mandi La foto di te Che baci il bambinello Va bene Sarà fatto Faremo le magliette poi Non è che bacio il bambinello Vedi vedi Abbiamo già la prima La mia nonna mi rincorre Con il bambinello Da mettere dentro Il presepe Il 24 Sera Ah tradizione Esatto Una cosa In tradizione Non siamo particolarmente No 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 Infatti però Ma è una bella situazione Sempre bello Va bene Prego Tami Ah terza proposta In questo caso Arriviamo al teatro Menotti Di cui non abbiamo ancora parlato Ma ne parliamo oggi Teatro Menotti Che si trova In zona Piazza Risorgimento Quindi Metropolitana Blu Diciamo così O Dateo Diciamo così Si può raggiungere Ma anche con il 9 Con la 61 Ci sono un salvo Molto collegato Il 9 È un bel tram Che secondo me È sottovalutato Sì perché attraversa Un po' Perché ridi Mi fa ridere Come descrizione Qual è il tram Utile e non sottovalutato Il 2 No Il 2 non è sottovalutato No Neanche il 24 Non è sottovalutato Va bene Posso tornare Le cose serie adesso Vabbè torniamo al Teatro Menotti Teatro Menotti Che propone Le opere complete di Shakespeare In 90 minuti Come è possibile Come è possibile Raccontare Shakespeare Tutte le sue opere Da Romeo e Giulietta A Hotel A tutte le sue grandi opere In 90 minuti Lo scoprirete Andando al Teatro Menotti Con il per 2 Come con Whatsapp Menti il per 2 vai E invece E invece no Perché è la grande capacità Di sintetizzare Senza tagliare Ok Le grandi opere di Shakespeare Volevo ricordare Che questo spettacolo Interpretato e diretto Da Roberto Andrioli Fabrizio Checcacci E Lorenzo Degli Innocenti È una produzione TF Teatro Che è la produzione Del Teatro Menotti Con La macchina del suono Ed è uno spettacolo Divertente Quindi è uno spettacolo Che a cui Appunto Si può Ci si può Approcciare Con grande leggerezza Anche se appunto Stiamo parlando Di Shakespeare E delle sue opere Ma È una sfida E quindi come sfida Iniziare l'anno Con una sfida È Una bella proposta Come si chiama Lo spettacolo bene? Lo spettacolo si chiama Le opere complete Di Shakespeare In 90 minuti Capito? Oh Romeo Perché sei tu Romeo? Che ne so Ti amo Ok A me ha Motto Finito Non credo Non credo E uno ce lo siamo levati C'è un contatore E uno fuori dalle valle Vai avanti Così No invece no Molto interessante invece No questo sì Questo devo dire 90 minuti è anche un tempo Buono Esatto Non è troppo Non è troppo poco Devo dire Però La cosa che consiglio E Adesso Sono veramente Gli ultimi giorni Per i regali di Natale Anche se io non amo molto Fare il regalo Solo per Natale A me piacciono fare i regali Fuori Natale Ma Regalare Nel momento in cui Magari non avete idee In questo momento Regalare Un bello spettacolo Per una serata Da passare insieme In condivisione È una bella idea È una bella idea Lui non se l'aspettava Oggi è arrivato con un regalo E oggi è arrivato con un regalo Lui Palesemente comprato 10 minuti fa Però grazie Perché avevi intuito No Sono andato ieri Sinceramente Dico che sono andato ieri Sinceramente Non dovevi Sono sincero Viva la sincerità Posso dire Che comunque Al momento Sei il secondo A cui ho fatto il regale Basta Quindi tutti gli altri Anch'io Anch'io L'ho fatto i ben pochi L'ho fatto i ben pochi E non ne farò Perché sapete A me non piace fare i regali Ma mi piace riceverli Però sono sincero anch'io Chimica Dito nella piaga E rettore Una di quelle canzoni Che come dico sempre Purtroppo Durano solamente Il tempo del festival Eh sì Ci si dimentica Invece Ma questo è bello Ma me lo ricordo sempre Perché tu sei un po' Il mio dito nella piaga Quindi No No ma io l'ho tratto L'ho tratto malissimo Vabbè che gli voglio bene Sai quando Come anche Chi apprezza Sprezzo Chi apprezza Sprezzo A parte che non è italiano E non esiste Comunque E che disprezza compra Grazie Volevo dire quello Vedi Mi fa anche da badante Linguistico Quindi insomma Meglio di così La risata che sentite Guarda di Tamara Malleo Che è ancora qui in studio Con noi Perché abbiamo parlato Appunto del teatro Delle tre proposte Per Capodanno Per Capodanno In realtà Dal 26 In avanti Ma per Capodanno Anzi Questa notizia Che ho scoperto Che i teatri Sono così solo L'1 e il 25 Cioè più o meno Altri orari Cambiano gli orari Dicevi in altri giorni Ma comunque Si va avanti The show must go Intanto faccio notare Che nel momento in cui Sulla Repubblica Milano Avevo qua pronta Un'intervista Ad Alessandro Capelli Segretario del PD Metropolitano Ci sono i banner A lato del teatro Parenti Che mi stanno sponsorizzando Di andare al teatro A Capodanno Che c'è anche il Brindisi E poi c'è Paolo Rossi Dal 27 al 26 Perché ti ascoltano Perché ti ascoltano Con le scie chimiche Lanciano tanti micro microfoni Nell'aria Che ci ascoltano Che sono entrati anche Dentro Milano Sì dentro di noi Perché li aspiriamo Entrano dentro di noi E sentono il nostro io interiore Capito Questo è il futuro Comunque Tamara Io ho una curiosità Da chiederti invece Questo amore per il teatro Da dove arriva Ma soprattutto Come possiamo fare In questo caso Usiamo una parola Che si è sempre usata male Ma in questo caso Lo siamo bene Come facciamo a contagiare Gli altri con questo amore Per il teatro Allora questa è una grande domanda Che io mi pongo Tutte le volte Tutte le settimane Per fare una grande domanda Ci vuole un grande uomo Il pennello Così avrei abbassato Così avrei abbassato Un attimo E quindi Non lo so La mia risposta è Non lo so come si fa Diciamo che Io tento di raccontare Gli interpreti Tento di raccontare Le storie Che ci sono a teatro Cercando di coinvolgere Quanto più possibile Le persone Che ci ascoltano In radio In televisione Quindi Questo è il tentativo Detto questo Come si faccia A coinvolgere Non lo so Secondo me Io personalmente Penso che ci debba essere Una cultura Del teatro Che parta Da Un'abitudine Quindi Quando il bambino O la bambina Cresce Abituare Alla frequentazione Del teatro Secondo me Potrebbe Aiutare Così come Nelle scuole Anziché Fare la costrizione Quindi La mattina Del teatro Che tutti Dobbiamo andare a vedere Pirandello Tutti Dobbiamo andare a vedere Shakespeare In realtà Secondo me Le proposte Che ci sono oggi Anche di drammaturgia Contemporanea Sono anche Storie E temi Che potrebbero Interessare Molto di più I ragazzi E le ragazze Soprattutto Dai 15 anni in su E potrebbero Invece Fargli Pensare Che in realtà Nel teatro Possono trovare Un modo Per Trovare le parole Per raccontare Dei disagi Per raccontare Delle cose Che non riescono A concretizzare Perché non hanno ancora Gli strumenti E invece In teatro Possono trovare Il mezzo Per far sì Che quello Che sentono Possa essere Poi Veramente Trovare Una realizzazione Quindi trovare Un modo Per Essere Pensato Essere Anche Esplicitato Attraverso Le parole Quindi Secondo me Questo adesso Non si fa Il teatro Viene visto In questo momento Così come L'ho stato Per tanti anni Anche per me Quando andavo a scuola Il teatro Era Una fase Della Della formazione Culturale L'apprendimento Quasi In realtà Più Sì Ma all'interno Di un sistema Molto strutturato Quindi Il ragazzo La ragazza Lo prendeva Come un obbligo Invece Farlo diventare Un'abitudine Secondo me Può Cambiare le cose Detto questo Non ho Una risposta Perché Tu Come hai fatto Anche a te Ti hanno obbligato Sì E molto Non l'hai amato Quando ti hanno obbligato Allora In realtà Io ho trovato Affascinante Quel mondo Perché mi permetteva Di Essendo io cresciuta In un paese Molto piccolo Di Conoscere storie Di conoscere Realtà Che io A cui non Potevo accedere E quindi Il teatro Il cinema Erano delle finestre Sul mondo Che Mi permettevano Di nutrirmi Questo È stato Per me E quando sono arrivata A Milano Per me era La città dei balocchi Perché potevo fare Veramente tanto E quando sono arrivata Si poteva fare Tanto Come studente Accedendo Veramente Con dei prezzi Molto bassi A tantissime Attività Culturali Quindi teatro Cinema Incontri Veramente tantissimi Non che adesso Non ci siano Però Non vivendo Quella realtà Adesso Ho meno Consapevolezza Diciamo che Sicuramente Il teatro Ha un costo Quello sì Però secondo me Se diventa un'abitudine E come vai Fuori a mangiare Vai Una sera In un locale Può essere Vai a teatro Costa così tanto Di più Di uno Look and eat Di un certo livello Cioè come dire Ormai 30-40 euro Ti spendi per andare A una look and eat Tornando a bere Una maniare Caffè Il dolce Nella mail Dell'università Settimanalmente Ti arrivano Diciamo Le convenzioni Con teatri Mi piace Quando parli Della tua povertà Beh certo Perché tu sei Stirato Stirato Perfetto E no Ti permette Di accedere A teatro Sulla dei pezzi Sostenibili Come per esempio Quando tu ho detto Che poteva entrare Alla scala Il pomeriggio In giorno Chiaramente Ovvio Però a 10 euro Io non sono mai Entrato alla scala Anche solo Per il fatto Sono entrato solamente A San Carlo Io di teatro grosso Ah Questavo l'ospedale San Carlo Teatro San Carlo Di Napoli Bellissimo Bellissimo Molto bello Quando entri Ti dà Quell'effetto Volevo vedere anche la scala Con 10 euro Ho detto Subito Però poi al final Ci hanno un attimo Preceduto Gli altri 9 milioni Come quando è andato Guccini Me ne accorgo Sempre troppo tardi E invece Per quello che si diceva Della scuola È vero A teatro Lo vedi un po' Come una costruzione Anche perché Per esempio C'è l'insegnante Di inglese Che vuole farsi Magari Un po' più Vedere Ti porta a vedere Uno spettacolo Di Shakespeare In inglese Che tu sei un bambino Magari Dell'inizio superiori O addirittura Delle medie Non capisci niente E la vedi un po' così Mentre All'università Ho studiato Storia del teatro A me tutta la parte Strutturale Dietro Ha fatto impazzire Rispetto Alla rappresentazione Non so perché Tipo la questione Dei teatri In Spagna Che erano Prima nei cortili Tutte quelle cose storiche Siamo all'esame Di maturità Di magia No no Per dire che Cioè La rappresentazione Alla fine Se sei tanto piccolo Secondo me Fai fatica a capirla Soprattutto se non lo scegliete Lo spettacolo Eccetera Mentre Avere il background Che c'è magari prima Che ti aiuta Ad avere qualche strumento In più per capirlo Potrebbe essere utile Poi chiaramente Però devo dirti che Questa è la sensazione Di molti Cioè Questa idea Di non comprendere il teatro Di non capirlo E quindi Di rifuggire da una cosa Che ti fa sentire a disagio Beh sì Invece il teatro In realtà È un posto Molto accogliente Che ti permette Invece di Entrare In delle storie Che In qualche modo Forse non parlano Di te direttamente Ma parlano Di tutti noi E attraverso quelle storie Tu puoi capire La realtà Molto meglio Puoi capire la realtà In maniera molto più critica E secondo me Questo è quello Che bisognerebbe dire Del teatro Non che bisogna andare A teatro Perché è un posto Che ti dà cultura Perché è un posto Che ti permette No È un posto Che invece ti permette Di entrare in contatto Con te stesso Ma anche con gli altri Perché se tu non conosci Gli altri In realtà Conosci sì Te stesso Ma se non entri In relazione Con gli altri È un pezzo Esatto Una parte Viene in qualche modo Nascosta Il teatro Invece questo È condivisione È connessione È comprensione Chiaro Quindi secondo me Bisogna fare un lavoro Di cambiamento di idee Adesso mi dite come faccio A dire qualcosa io Dopo che avete detto Cosi così intelligenti Entrambi Cioè io adesso Mi sento a disagio A parte che è la prima volta Che lo dici di me Innanzitutto È il regalo di Natale Siamo a Natale Bisogna essere più buoni Infatti Infatti ho messo sotto Sotto ci state sentendo L'avete perso Ah no È questa È questa che vi fa perdere Aspetta Aspetta Eh sì Vi ho guammato Se siete arrivati Fino ad adesso Senza aver ascoltato Last Christmas Adesso avete perso La Challenge L'ho fatto apposta A due giorni A tre giorni Da Natale L'ho fatto apposta Io l'avevo già perso a novembre Sì sì Noi non l'avevamo messo a novembre L'avevamo messo a novembre Per qualche ragione Per far perdere tutti Per far perdere tutti Per aver messo a novembre Infatti Va bene Senti Tamara Grazie Grazie a voi Perché è stato bellissimo Stare qua con voi Con gli ascoltatori Le ascoltatrici Di Cristal Radio E di Good Morning Milano Quindi Oddio È stato bellissimo Scusate perché ho toccato il microfono Cosa che non bisognerebbe mai fare E Lo fanno tutti Anche Maseri No Ma perché Anche il dottor Ranfi Lo fa Il dottor Ranfi Il dottore Però dai non male In questi tre mesi di trasmissione Ho vinto Il dottorato Non hai ricevuto l'ambrogino d'oro No ma sono dottore Però adesso Magari Visto che lo tolgono a qualcuno Cosa che non succederà mai Io mi metto E rimane uno libero Io lo prendo Un apparente libero Lo possiamo attaccare Anche se c'è scritto Signora Ferragli Va bene dai Andiamo avanti Adesso che c'è la nostra sigla Grazie a tutti Grazie a tutti.